Il tavolo con le associazioni di categoria è qualcosa che abbiamo avviato sin dal nostro insediamento, ci ho tenuto in modo particolare perché ritengo e riteniamo che attraverso una interlocuzione proficua con le associazioni di categoria è possibile percepire quelle che sono le reali esigenze, le reali criticità che avvolgono questo comparto in un momento così complicato come quello attuale per via dell'emergenza Covid. In questo tavolo abbiamo fatto tutte le istanze che ci sono pervenute dalle associazioni di categoria del mondo del commercio e abbiamo anche ricevuto in maniera documentale da loro una scala di priorità. Per quello che riguarda la piattaforma è qualcosa sulla quale abbiamo lavorato giorno e notte affinché fosse pronta in tempi stretti perché abbiamo adottato dapprima un'apposita delibera di giunta e successivamente abbiamo concretizzato questo progetto. È una piattaforma che dà come ben ricordava la possibilità agli esercenti del nostro territorio, della nostra città di registrarsi con assoluta semplicità, è una piattaforma molto intuitiva e dà la possibilità ai cittadini di Chieti di poter comprare Chietino anche in un momento di restrizioni come quello attuale. Stiamo pensando a delle iniziative di concerto anche con la collega Maretti che è la delega all'innovazione sociale e per quello che riguarda invece le iniziative a 360 grandi insieme al nostro sindaco Ferrara, insieme al nostro vice sindaco De Cesare, per quello che sarà un Natale sicuramente diverso dal solito ma che noi cercheremo di rendere comunque gradevole per la cittadinanza.